Ben ritrovati qui sulle fonti tv, siamo pronti per una nuova puntata di Doppio Binario. Di cosa parleremo oggi Gabriele? Parleremo degli incentivi nel settore delle costruzioni, del bonus 110% e di tutta una serie di interventi importanti che possono essere fatti nel settore delle costruzioni. Vedremo la durata di questi incentivi, quali sono anche le criticità. Grazie come sempre ai nostri ospiti. Bene, allora non ci resta che dirvi, restate qui con noi a tra poco. Restate con noi. Un saluto a tutti gli amici di Le Fonti TV. In questa puntata parleremo dell'evoluzione della normativa e dell'impatto degli incentivi eco e sisma nel settore delle costruzioni, nel settore dell'edilizia. Quali effetti questi incentivi poi effettivamente hanno? Non solo, ma anche con i nostri ospiti studio, oggi cercheremo di fare il punto della situazione su quella che è la situazione del patrimonio edilizio italiano. Non mi resta che salutare appunto i nostri ospiti che sono qui presenti al mio fianco. Inizio con l'avvocato Fulvio di Domenico, socio di Genesis Avvocati. Ben arrivato qui, benvenuto qui in questa trasmissione. Grazie per l'invito. E il signor Stefano Morbio, socio amministratore unico di Morbio Costruzioni. Grazie per avermi evitato. Comunque, io partirei con l'avvocato di Domenico. Per far capire meglio ai nostri amici che ci ascoltano, che guardano appunto questa puntata, per capire bene di cosa stiamo parlando, ovvero degli incentivi, facciamo un attimo un percorso storico. Andiamo a capire velocemente, chiaramente, qual è l'evoluzione della normativa degli incentivi dal decreto legge numero 63 del 2013 al decreto legge 34 del 2020. Non solo, ma poi andiamo anche, le chiedo anche qual è il perché di questi incentivi, qual è la logica e quali effetti poi hanno. Allora, il sistema degli incentivi effettivamente nasce per la sua importanza, per la sua magnitudo con il provvedimento del 2013 che lei ha citato prima. E' quello che introduce un meccanismo di agevolazione, di incentivazione, sotto forma di crediti d'imposta, sia per gli interventi di deduamento sismico, sia per quelli di risparmio energetico. Questo ha un'evoluzione importante a partire dal 2016, perché vengono aumentate le soglie, vengono portate a 96.000 euro, vengono aumentate le percentuali di trazione, rispettivamente il 70-80%, se parliamo di unifamiliari, 75-85% se parliamo di condomini. Questa normativa subisce dei momenti di incertezza, chiamiamoli così, a cavallo tra il 2019 e i primi del 2020, perché in parte ne è ridotta la portata sotto il profilo applicativo, per poi avere effettivamente il massimo della sua espressione con il decreto di Maglio. Il decreto 34, che poi è stato convertito in legge 77, attraverso il quale è stato parato il famoso incentivo del 110%, che nelle intenzioni effettivamente del governo, porta a consentire ai proprietari, soprattutto di immobili a destinazione residenziale, di fare interventi legati al risparmio energetico e all'adeguamento sismico, sostanzialmente senza sostenere alcun tipo di costo. Al di là di quello che poi sono state nell'evoluzione normativa, la portata degli incentivi, quindi in termini di detrazione piuttosto che di soglie, effettivamente c'è stata una coerenza da parte di tutti i governi che si sono succeduti, perché questo sistema di incentivi è stato applicato e implementato sia da governi di centro-sinistra che da governi di centro-destra, e fondamentalmente la logica è stata, da un lato, di non consumare un nuovo territorio, quindi di promuovere tutto ciò che è il recupero di patrimonio esistente, e dall'altro di sospingere verso la riqualificazione del nostro patrimonio sotto due aspetti principali, quello dell'adeguamento ai migliori standard di protezione sismica, essendo noi un paese, ahimè, molto esposto a quel punto di vista, e per l'altro aspetto quello del risparmio energetico, quindi fondamentalmente tutte le tecnologie che consentono di disperdere meno energia, e conseguentivamente di impiegarne meno. La ringrazio, io passerei allora a questo punto al signor Morbi, al quale chiedo qual è la situazione attuale del settore delle costruzioni, del settore edilizio, soprattutto dopo la crisi del 2018, e quale impatto effettivamente hanno questi incentivi ecosisma nel settore? Allora, la crisi del 2008 è stata una crisi importante, ha segnato molto il settore edilizio, e solo negli ultimi tre anni si è potuto registrare un aumento della produttività nel settore. L'ultimo anno, il 2019, c'è stato un aumento del 2% circa, da fonti Istat. Purtroppo il 2020 non può confermare il treno positivo, causa emergenza sanitaria, quindi anche le migliori previsioni del lance scongiurando un secondo lockdown prevedono un calo del 13,5%, quindi il 2020 non sarà un anno positivo. Per il futuro le compravendite immobiliari causa emergenza sanitaria, sono incerte, il privato non sa come muoversi, e quindi per fortuna il governo ha messo in campo questi incentivi, quindi questo super bonus, che può muovere nel 2021 il mercato delle costruzioni. Un mercato però che riguarda soprattutto le riqualificazioni energetiche, quindi un mercato che riguarda non lavori strutturali, quindi non lavori importanti, perché il tempo per mettere in campo un lavoro di demolizione, ricostruzione o una ristrutturazione importante non c'è dal punto di vista amministrativo, e quindi riguarderà soprattutto il risparmio energetico. Bene, più o meno già mi ha risposto anche a una seconda domanda che voglio farle, ovvero innanzitutto le chiedo anche qual è la situazione del mercato del recupero, perché è strettamente legato anche a quello edilizio delle costruzioni. E poi per concludere questa prima parte di doppio binario, capire un po' qual è la panoramica del settore edilizio italiano, anche se un po' già ce l'ha accennato, col fatto che queste percentuali non sono proprio rincuoranti, considerando appunto questa perdita dovuta anche al Covid e alla situazione contingente. Ecco, ci faccia una panoramica di questi due settori? Allora, se parliamo di patrimonio immobiliare italiano, parliamo di un patrimonio immobiliare piuttosto vecchio. Sappiamo che il 77% degli edifici sono antecedenti gli anni 80 e quindi sono in uno stato per lo più mediocre e a qualvolta pessimo, dal punto di vista energetico e anche dal punto di vista sismico. Questa opportunità che ci dà il governo del Superbonus è un'opportunità importante per poter riqualificare gli edifici, per poter abbellire quindi i quartieri delle nostre città, è un'opportunità di lavoro nel settore delle costruzioni e non per ultimo è una grande opportunità perché può aumentare il patrimonio residenziale italiano. Bene, allora la ringrazio, ringrazio per il vostro contributo, salutando ovviamente l'Avvocato Fulvio Di Domenico, socio di Genesis Avvocati, grazie per essere stato qui con noi. Grazie, è stato un piacere. E ovviamente saluto il signor Stefano Morbio, socio amministratore unico di Morbio Costruzioni. Grazie. Un minuto di pubblicità e ovviamente restate qui con noi con la seconda parte di Doppio Binario dove ci saranno sempre i nostri ospiti qui presenti in studio con i quali andremo ad approfondire appunto questa tematica. A tra poco. Bentornati in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Se nella prima parte abbiamo affrontato la parte normativa che riguarda gli incentivi nel settore delle costruzioni, ci concentreremo ora di più sulle questioni a livello pratico. Vedremo quindi le peculiarità di questi incentivi, analizzeremo la durata, qual è anche il motore, insomma il cuore di questo intervento normativo così importante. lo faremo sempre con i nostri ospiti che sono intervenuti anche nella prima parte di questa puntata di Doppio Binario e che saluto e che sono l'avvocato Fulvio Di Domenico, socio di Genesisi Avvocati. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno. E Stefano Morbio, geometra e socio e amministratore unico di Morbio Costruzioni. Buongiorno e benvenuto anche a lei. Grazie, buongiorno. Ecco, avvocato, io partirei da lei e le chiedo anzitutto, insomma, come sottolineava prima, questo bonus è davvero importante per il settore delle costruzioni e le chiedo però qual è la durata effettiva di questi incentivi perché chiaramente dall'altra parte costituiscono un aggravio sul bilancio dello Stato. Prego. Allora, il sistema degli incentivi che nasce ormai dal 2013 con i provenienti di maggio di quest'anno ha avuto un ampliamento importantissimo perché è stato varato il 110%. Questo 110% conti fatti dalla Regione di Stato vuol dire circa 15 miliardi di costo per l'erario. Quindi se da un lato è immaginabile che questo sistema di incentivi duri nel tempo è più difficile immaginare che possa durare con questa magnitudo che conosciamo in questo momento che certamente ha nelle intenzioni di questo governo quello di dare un shock positivo alla nostra economia. Da qui quindi l'ampiezza dello stesso e probabilmente anche una durata limitata perché stiamo parlando di incentivi che si concludono il 31 dicembre del 2021. Questo chiaramente accompagnato dalle problematiche dell'emergenza sanitaria che tutti noi conosciamo può creare delle difficoltà ma è anche comprensibile che quello che si vuole fare è quello di concentrarsi in presa da un lato e committente dall'altro a fare presto, bene, qualcosa che poi si risolva in un miglioramento della nostra condizione economica. Quindi poco più di un anno di tempo. Poco più di un anno di tempo, esatto. Parliamo di incentivi che riguardano sia la parte di risparmio energetico fondamentalmente stiamo parlando di quelle che sono gli involucri degli edifici e stiamo parlando del rifacimento poi dei sistemi di riscaldamento e riaffrescamento degli immobili. Questo vale sia per la parte condominiale sia per le parti unifamiliari. È un sistema di incentivi che premia soprattutto il mondo residenziale più che il mondo industriale o commerciale da un punto di vista immobiliare e che accompagna al suo interno anche la possibilità di quelli che il legislatore chiama interventi trainati. Cioè nel momento in cui io faccio un intervento di questa importanza quindi sto creando l'isolamento termico dell'edificio sto rifacendo l'impianto di riscaldamento se faccio alcuni altri interventi come ad esempio la sostituzione degli infissi del mio appartamento anche in questo caso accedo al 110%. Se lo facessi avulso da questo tipo di intervento non avrei questo tipo di incentivo, lo avrei in misura inferiore. Se lo faccio nel contesto di questo progetto più complessivo a quel punto accedo al 110% e stiamo parlando di un credito di imposta che si può regolare in 5 anni. Qual è l'ulteriore peculiarità di questo sistema di incentivi? È quello che viene chiamato lo sconto in fattura ovvero sia normalmente un'impresa che esegue un lavoro emette una fattura e riceve un pagamento. Anche col vecchio sistema di incentivi questo rimaneva ovviamente mutato io che sostenevo la spesa potevo poi portare nella mia dichiarazione dei redditi la spesa sostenuta e beneficiare delle trazioni a seconda della tipologia di lavoro. Questa nuova normativa invece permette che cosa? Di scambiare direttamente fra il committente dell'opera e l'impresa questo credito di imposta. Quindi io in presa emetto la mia fattura e ricevo immediatamente in cambio questo credito di imposta che a mia volta posso ricevere a soggetti terzi che possono essere altre imprese possono essere banche possono essere assicurazioni questo effettivamente è il fulcro, il volano e la potenzialità maggiore di questo sistema perché evidentemente se noi chiedessimo oggi ai condomini anche in questa condizione economica di sostenere spese così importanti di rifacimento di facciate, di rifacimento di riscaldamenti o chiedessimo alle imprese di sostenere con i propri soldi questo tipo di interventi probabilmente nulla di tutto questo si realizzerebbe. Quindi l'impresa ha un vantaggio fiscale importante che può monetizzare e questa poi diventa la differenza quindi le consente di prendere questo credito dal committente ritrasferirlo a sua volta ricevere in cambio del denaro e affrontare nuovi lavori o completare i lavori già in corso. Questo è veramente il cuore l'elemento veramente quasi geniale che è stato inserito all'interno di questa normativa. Ecco Morbio, mi rivolgo a lei che appunto è amministratore unico appunto di un'impresa di costruzione e le chiedo anche qual è lei appunto ha a che fare come clientela sia con appunto il residente privato e l'individuo sia con proprio i condomini cioè il condominio intero. Le chiedo quali sono le criticità riferendosi a questi due tipi di rapporti? Grazie. Allora possiamo dire che recentemente abbiamo avuto moltissime richieste per eseguire preventivazioni su lavori sia come privati che su condominio. Le richieste dei privati sono più semplici perché il lavoro da eseguire sulla villa singola è chiaramente c'è un rapporto con la committenza e con il tecnico incaricato per eseguire la certificazione energetica e il progetto per migliorare le due classi sismiche che è quello che serve per poter accedere ai bonus per quanto riguarda la parte energetica. Quindi si sviluppa in un tempo relativamente inferiore mentre invece con il condomino a volte le richieste arrivano dagli amministratori di condominio fortunatamente qualche amministratore con cui abbiamo già discusso li abbiamo visti preparati quindi sul pezzo per quanto riguarda la norma solo che mettere insieme tutti i condomini quindi in un momento tra l'altro di emergenza sanitaria come questa è difficile anche fisicamente fare un'assemblea quindi i tempi si allungano i tempi si allungano e quindi si rischia avendo un termine molto corto perché il 31 dicembre 2021 per noi che facciamo costruzioni non è un tempo un tempo lungo è un tempo relativamente breve corriamo il rischio di non poter effettuare alcuni interventi e quindi è un peccato perché la norma in effetti è stata studiata bene l'unica problematica se così vogliamo chiamarla è il tempo certo il tempo in effetti è molto breve avvocato le chiedo eventuali ulteriori criticità dal punto di vista normativo allora questa normativa si accompagna a tutto un insieme di controlli che direi anche comprensibili giustamente il legislatore mettendo in campo un sistema che di fatto permette da un lato al condominio piuttosto al proprietario dall'altro all'impresa di non sostenere alcun costo perché viene tutto finanziato attraverso il credo d'imposta ha voluto imporre una serie di controlli per accertarsi che poi quei benefici ricercati cioè di risparmio energetico ad evento sismico si realizzino e quindi la delicatezza oggi di questa normativa è che mette in campo alcune professionalità che prima non erano richieste come ad esempio i termotecnici ovvero sia coloro i quali prima di affrontare un progetto devono verificare qual è la condizione di consumo energetico dell'edificio e poi successivamente devono certificare qual è il miglioramento energetico acquisito l'assenza di questo tipo di asseverazioni pregiudica l'acquisizione del credo d'imposta lo stesso vale per gli interventi di adeguamento sismico ho bisogno di un ingegnere strutturista che documenta all'interno del progetto quali sono gli interventi che permetteranno all'edificio di migliorare da un punto di vista di tenuta sismica e che alla fine del processo certifichi che questo effettivamente sia avvenuto non ultimo l'intervento dei commercialisti e dei rivisori dei conti che sono chiamati affinché il famoso credo d'imposta possa essere trasferito ad applicare il visto di conformità ovvero sia ad accertare che tutti i documenti che la norma richiede vi siano effettivamente ricorrono senza il quale il credo d'imposta non può essere trasferito dal committente dell'opera all'impresa e successivamente dall'impresa ad altri soggetti quindi uso un termine gergale la tempistica che si accompagna a questa norma è una tempistica importante e che quindi va riguardata con una certa attenzione e coinvolge figure professionali che pur se già presenti perché ovviamente il termotecnico normalmente è un geometro un architetto un ingegnere e lo strutturista la stessa cosa non avevano queste peculiarità professionali che oggi invece sono richieste affinché tutto questo meccanismo effettivamente funzioni certo Morbio torno da lei per un'ultima domanda le chiedo alcune peculiarità tecniche che riguardano gli interventi che abbiamo definito prima trainanti allora gli interventi trainanti il primo il più facile quello che sarà più gettonato tra gli interventi è il cappotto il cappotto dà la possibilità di accedere al bonus da 110 quindi cappotto passando se passiamo le due classi energetiche possiamo accedere al bonus quindi trainare altri lavori il cappotto termico il cappotto termico sulle superfici oppacche deve essere almeno il 25% della superficie oppacca questo cappotto traina altri altri lavori altri lavori che sono sempre inerenti all'efficientamento energetico quindi train la caldaia può essere cambiata la caldaia con le sanzioni o la pompa di calore o i serramenti quindi questi per me sono i lavori facili sono probabilmente quei lavori che si riuscirà a fare nel 2021 perché richiedono un'unità burocratico più corto purtroppo il peccato è che da detto i lavori l'opportunità la norma lo prevede prevede anche la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato con lo stesso volume quindi una ristrutturazione più pesante che potrebbe creare un lavoro diverso ovvero non solo un lavoro specializzato da maestranze tipo cappottisti ponteggisti ma potrebbe creare un lavoro a tutto l'indotto dell'impresa di costruzioni quindi sfruttando gli stessi contributi con un tempo maggiore potrebbe dare un'opportunità grande al paese per poter ricostruire edifici non utilizzando altro terreno vergine ma riqualificando zone già edificate con edifici magari anche più belli e chiaramente energicamente più performanti certo quindi torniamo al problema originale che è quello del tempo ma come sappiamo e come è successo in altre occasioni c'è sempre tempo tra virgolette per una proroga e purtroppo la proroga è avvenuta per la situazione emergenziale questo è uno dei pochi provvedimenti che effettivamente sono strutturali da parte del governo e non tra virgolette sempre tappabuchi per cui speriamo che ci sia più tempo io vi ringrazio per essere stati con noi ringrazio i nostri ospiti Fulvio Di Domenico socio di Genesi di Avvocati grazie e Stefano Morbio socio amministratore unico di Morbio Costruzioni grazie per aver invitato grazie anche ai nostri telespettatori e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binari grazie a tutti grazie a tutti